Salve a tutti e benvenuti nel mondo delle mantidi. Oggi vi parleremo di una mantide comunissima ma bellissima. Si tratta della mantide religiosa. È un insetto diffuso in tutta Europa ed è abbondante in Italia. Questa è una grossa femmina verde brillante che misura 7 centimetri e mezzo. Potete notare la testa triangolare, le zampe raptatorie con cui cattura le prede, le zampe che usa per camminare e le tegmine verdi. È famosa per mangiare il maschi dopo l'accoppiamento ma in allevamento di rado succede. La parata di minaccia della mantide religiosa è molto bella. Spiega le ali mostrando le macchie a forma di occhio sotto le zampe raptatorie e produce un suono con le ali posteriori piegate a ventaglio sotto le tegmine. Per fortuna non è in pericolo di estinzione. In Germania però è una specie protetta. La femmina depone le uova in una sacca spugnosa detta Oteca dove le neani dipassano l'inverno. Il maschio invece, più piccolo, si riconosce subito per le sue antenne lunghe oltre che dalle dimensioni. Le mantidi possono avere colori diversi a seconda dell'erba in cui sono cresciute. Sia i maschi sia le femmine sono eccellenti predatori di mosche, cavallette e altri insetti. L'uomo è sempre stato affascinato da questi insetti. Già gli antichi romani la veneravano e ancora oggi in alcune regioni sono oggetto di credenze magiche e religiose. La mantide religiosa è anche stata introdotta accidentalmente in America del Nord con un carico di pianti ornamentali. Ora si è abituata perfettamente ed è possibile trovarne vaste popolazioni. La mantide religiosa appartiene alla famiglia mantide, la più vasta nel mondo delle mantidi. Con questo è tutto. Noi ci rivediamo nel prossimo video.